Le nostre campagne custodiscono l'oro bianco toscano, un latte dalle caratteristiche uniche. Mucchi, storico marchio fiorentino, da sempre sui banchi di Unicop Firenze, può contare su una rete di 51 stalle. La maggior parte si trova qui, nel Mugello, un altro buon numero in Maremma. Una filiera che garantisce la completa tracciabilità del prodotto, un viaggio corto dall'allevamento alla tavola e soprattutto freschezza, un aspetto che per il latte è fondamentale. Noi investiamo molto nel territorio, abbiamo consolidato una partnership con tutti gli allevatori toscani, peraltro con un rinnovo di un accordo triennale addirittura, questo proprio per consolidare questa prospettiva. Inoltre stiamo lavorando a dei nuovi obiettivi di qualità che sono superiori a qualsiasi standard oggi esistente sul mercato. Nel senso che abbiamo condiviso con gli allevatori la necessità di rendere questo latte, che già è a un livello altissimo qualitativo, un latte veramente speciale e unico a livello italiano. Dalle stalle direttamente allo stabilimento fiorentino. Ecco la casa di Mucchi, 37 mila metri quadrati, dove ogni anno passano 57 milioni di litri di latte, sottoposti a oltre 500 mila analisi di qualità. Una storia iniziata negli anni 50 con la centrale del latte, voluta dal sindaco Giorgio Lapira, è arrivata fino ai giorni nostri anche grazie al rapporto con un altro soggetto del territorio, come Unicop Firenze. Per noi è una partnership strategica che da tanti anni ci consente di portare sulla tavola dei consumatori il latte Mucchi. Unicop è un partner strategico perché condividiamo molto spesso gli obiettivi ambientali, di qualità, di tracciabilità e di territorio. Questo è molto molto importante e ovviamente noi siamo a fianco di Unicop Firenze, come Unicop Firenze è a fianco della nostra azienda da tantissimi anni. Due realtà unite dall'attenzione per l'ambiente. L'ultimo arrivato è lo yogurt 100% naturale, solo con latte toscano, senza aromi, conservanti o addensanti. Il segno particolare è l'ecovasetto in carta riciclabile. Prosegue così l'impegno per ridurre l'uso della plastica. Abbiamo come obiettivo di gruppo di ridurre tutta la plastica, chiaramente in tutti i processi industriali, del 50%. Questa è una grande ambizione che però prende spunto da questa grande esperienza che Mucchi ha portato avanti da tanti anni. Lo yogurt 100% naturale Mucchi nei gusti caffè e mango è disponibile in tutti i cofì, fragola albicocca nei punti vendita più grandi.